Con l'avvento del Black Friday sicuramente qualcuno è riuscito a trovare molti oggetti che potrebbero essere utili per lui ad un prezzo molto molto basso e chi avesse tra di voi comprato il microfono Ryzen Siren Mini Bene, oggi vedremo, recensiremo e proveremo questo microfono streaming Salve a tutti, io sono MB Max e eccoci qui su questo nuovissimo video finalmente dopo tanto tempo Come prima cosa volevo invitarvi ad iscrivervi qua sul canale di Instagram del mio canale MB Max 001 per restare sempre aggiornati sui video che arriveranno perché come potete vedere esami, non esami, cavoliacci vari posti ci fanno sempre l'arrivo di nuovi prodotti, nuovi video su questo canale Oggi come video di tecnologia parleremo del Ryzen Siren Mini che è esattamente questo qua Io ho preso la versione nera perché ci sta come versione nera però c'è anche bianco e rosa Chi volesse dopo comprarlo comunque qui in basso ci sono tutti i link a disposizione per comprare per esempio questo per comprare anche altri prodotti, per esempio anche i miei componenti PC se siete interessati Detto questo andiamo a spacchettarlo Scusate per la prospettiva ma non è proprio il massimo, non ho un treppiede proprio così giganterimo quindi se vi va di donare sempre qua sotto il link per Paypal o BuyMeACoffee o quello che volete Bene, andiamo ad aprirlo immediatamente Allora intanto la scatola devo dire che è fatta molto molto bene Anche una specie di gancino fatto in stoffa e devo dire bello Scatola va bene, Razer solito Andiamo ad aprire intanto Bene, quello per il benvenuto Poi abbiamo il nostro cavetto Con un attacco strano Dopo vedremo perché It's time to sing and be heard Streaming is one of the fast and growing entertainment bla 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 Co-founder Mi Lian Tang Co-founder di Razer Vabbè E qua abbiamo il microfono Rivestito con carta anti Dovrebbe essere anti elettricità statica, non credo Questo è il nostro piattino Intanto lo mettiamo qua Poi abbiamo di fianco Il La specie di collo per attaccarlo Qua oppure a Questo al braccio Questo Questo qua Poi Andiamo al pezzo forte Questi li possiamo togliere Lo apriamo e andiamo ad aprire Bello Figata Sembra proprio un Beans Andiamo a vedere perché Ha questa forma il nostro attacco Un mini USB Perché appunto Se noi lo andiamo ad infilare Qua dentro È perfettamente Compreso all'interno della forma Di fagiolo Del nostro microfono Poi lo andiamo ad attaccare Qui dentro Ok Perfetto E qui si può Muovere Beh Fighissimo Perfetto Ora che è stato spacchettato Possiamo provare Il microfono Sul computer Bene Questo è un esempio Tanto Tanto Fatto male Per Come vedete C'è uno schermo nero La telecamera Messa malissimo Però per esempio Io vi voglio far vedere Questo Diciamo La qualità di quest'audio Del Ryzen Siren Mini E Non è Toccato niente Come Sistema Qua Cattura Come cattura L'audio in entrata In questo caso Sto usando OBS Come Dispositivo Di acquisizione Audio e video E Diciamo Che Sentendo anche In entrata Il mio Il mio suono Rispetto A Questo Che è Il Newer NV800 Come si chiamava Sì Questo qua E Non è proprio Il massimo Se volete Un confronto Tra Questo Questo Il Microfono Della Telecamera E L'altro Microfono L'Avalier Per vedere Diciamo Il confronto Finale Ecco Scrivetemelo Qua sotto Nei commenti Oppure Mandatemi pure Direttamente Un messaggio Su Instagram Qua sotto Troverete Tutta Come in descrizione Ma anche Come qui Come pop up Potete anche Schrivimi tranquillamente Io rispondo Anzi Cercherò di rispondere A tutti i commenti Che Che mi arriveranno Bene Spero che il video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Su Instagram Se Non siete iscritti Se volete rimanere Sempre aggiornati Sui video Che arriveranno Secondo Iscrivetevi al canale Mettete mi piace E Attivate la campanellina Per rimanere Sempre Aggiornati Vi ringrazio Ci vediamo Settimana prossima Con un nuovissimo video Sarà Di Domotica Quello si Perché Come ho detto Sempre Ogni Mese Ci sarà Un video Di Un saluto E ci vediamo Al prossimo Video Ciao 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 Ciao